Prove di turismo lungo l'asse Ariano-Monteleone di Puglia, lavoro in corso nel piccolo comune più alto del Foggiano, alle porte del Tricolle, dove sta per realizzarsi un grande sogno. Michele Contella, origini monteleonesi, da 62 anni emigrato in Toscana, è tornato nella sua terra per annunciare a tutti la nascita di un grande museo. Quest'idea nasce, non è originale come idea e non è nemmeno mia. Io qua facevo le mostre annualmente e ogni anno, ogni anno, ogni anno di più incontravano il favore. Un anno ci sono stati 1200 visitatori addirittura, numeri da grandi musei di città, da grandi mostre di città. A quel punto io ho detto che ho tanto materiale, lo devo sistemare in maniera permanente, in modo che in maniera continua la gente se lo possa godere, non solo quei dieci giorni d'estate. E quindi è nata l'idea museo. Con l'idea museo è nato il problema locale. I locali, gli unici locali possibili sono questi due. Perché attaccati alla chiesa, sono di proprietà della canonica, accessibili nel corso principale di Monte Leone. Quindi io l'ho chiesto e l'arcivescovo mi li ha concessi, in modo dato d'uso gratuito. Io mi sono impegnato alla ristrutturazione. Lei vive in Toscana, ma a Monte Leone è nel cuore. Monte Leone, allora posso dirlo in italiano? Io so Monte Leone.